Oh, che aggressività! Hai le tue cose? Te lo spiego io. Sei più bella così, al naturale. Chi devi ringraziare per essere qui? Sei troppo appariscente. Chiudi quelle gambe. Stai seduta composta. Tieni dritta la schiena. Non urlare! I nostri spazi, gli spazi delle donne, sono spesso invasi. Noi dobbiamo trovare il nostro spazio, cominciare dai mezzi pubblici, in cui gli uomini, loro sì si sedono a gambe aperte, per arrivare fino alle poltrone dirigenziali. E' difficile questo talk per me. Noi, per prenderci questi spazi, di cui abbiamo diritto, non possiamo essere mediocri. Dobbiamo essere le migliori. Le migliori tra le donne e le migliori tra gli uomini. Dobbiamo spesso snaturare il nostro modo di parlare, di vestire, di scherzare, e non far ridere, e di trattare le altre persone. Non possiamo essere troppo belle, ma nemmeno trascurate. Non possiamo essere troppo mamme, ma nemmeno troppo libere. Non dobbiamo essere dei maschiacci, ma quella gonna così corta fa venire certe idee. Noi abbiamo bisogno di trovare la nostra voce e di riuscire a portarla verso l'esterno. E per farlo abbiamo bisogno di spazi in cui possiamo esprimere noi stesse. Esprimere il nostro essere sguagliate, il nostro essere pacate, il nostro stare a gambe aperte o a gambe chiuse, l'essere belle, brutte, grasse, magre, medie, essere simpatiche, antipatiche, essere gentili e essere stronze. Questi spazi ci sono, solo che non è proprio facile trovarli, e soprattutto non è facile, forse e anche non è facile, ricavarceli questi spazi. Perché noi dobbiamo farci spazio nel nostro lavoro, trovare lo spazio per portare il bambino a tennis, lo spazio per preparare la lavatrice, lo spazio per organizzare la cena. E anche noi, anche per noi donne femministe del 2021, si sente la pressione sociale, e si sentono questi carichi mentali e fisici che ci portiamo dietro da centinaia di anni. Questi spazi ci sono, ho detto prima, e se non li troviamo, comunque, possiamo crearli. Ce li possiamo costruire, li possiamo trovare dove sembra che non ci sia spazio. L'edizione di quest'anno del Freelance Camp è dedicata al Better Normal. Che cosa abbiamo imparato da una situazione che ha affossato praticamente l'umanità intera? Noi, io e Monia, abbiamo imparato, ed è questo che vogliamo condividere con voi oggi, che quando lo spazio non c'è, in realtà si può creare. Le donne non hanno spazio fisico, in quello che viene chiamato il mondo reale, ma le donne oggi hanno la possibilità di trovare uno spazio digitale, non virtuale, perché non c'è niente di virtuale oggi nell'internet, anzi, come dice Monia, che mi piace tantissimo. Quindi uno spazio reale, digitale. Che cosa è successo? È successo che mia suocera ha l'iPad, e mia suocera con l'iPad chiama suo figlio, non Filippo, il figlio, quello preferito, l'altro, quello bello, quello bello, anche se ha due passi da casa sua, e adesso si cerca le ricette nell'iPad. Quindi che cosa è successo? È successo che questa digitalizzazione forzata ha portato persone, donne, che non avrebbero mai pensato di utilizzare il web, di utilizzare la tecnologia, a farlo, a scoprire che è bello, che è interessante, che ci sono un sacco di opportunità. Quindi lo spazio non c'è, e dobbiamo prendercelo, questo spazio fisico, nelle stanze dei bottoni, all'interno dei gruppi dirigenziali, nel mondo fisico, per sederci come cavolo ci pare, per muoverci, per avere la fisicità che vogliamo o che ci troviamo. Però, intanto, possiamo cominciare a farci spazio digitalmente. Noi oggi vi portiamo qualche esempio di questo. A cominciare? Ma cominciamo da un posto a caso, da un podcast, che si chiama... Come si chiama? Non me lo ricordo. Amiche a tradimento. Amiche a tradimento, lo conosco, l'ho sentito. È un podcast che io e Deborah abbiamo iniziato a fare l'anno scorso, perché, come dice lei, volevamo fare un podcast, ma non avevamo tempo. Siamo pigre, fondamentalmente. Abbiamo cominciato questo podcast dicendo, vabbè, facciamo così, il format è questo, ognuna di noi pensiamo a un tema, ognuna di noi prepara cinque domande, le fa l'altra senza avvisarla prima, e poi ci raccontiamo le risposte. Ma da subito ci siamo dette, vabbè, e poi? E quindi subito, subito questo podcast è nato per essere poi, per creare poi uno spazio in cui si potesse parlare di questi argomenti. Già su Clubhouse è nato, quindi. Già su Clubhouse, quando è nato così, proprio. Ora si è trasferito su Telegram, è cambiato un pochino, però comunque è rimasto sempre quello che era nato all'inizio, quindi un podcast in cui c'è il podcast che viene registrato e poi c'è lo spazio per parlarne insieme. E in questi spazi, che sono nati appunto durante la registrazione e poi l'ascolto del podcast, sono nati gruppi di persone che venivano volentieri a parlare, che si confrontavano. C'erano confronti fatti anche di non essere d'accordo, ma sempre aperti e sempre disponibili ad ascoltare le altre persone che volevano parlarne. sono moderati da noi due questi spazi ovviamente, però comunque si autogestiscono bene, non abbiamo mai dovuto intervenire pesantemente per fermare qualcuno. E sono nate, a un certo punto, una persona che parlava lì con noi ci ha detto, eravamo in pieno lockdown, ci ha detto, mi sembra di essere, di ricreare, di aver ricreato quel momento in cui andavo con le amiche a prendere il caffè. Ed era una cosa che in quel momento ci mancava tantissimo, mancava a tutte. E noi ci siamo guardate senza vederci, perché eravamo appunto su Clubhouse, quindi non ci vedevamo, e ci siamo capite, ci siamo dette, sì è vero, anche per noi è così. È un momento piacevole in cui si può cambiare idea, mantenere la propria idea, parlare, riuscire a capire come vogliamo dire le cose e possiamo dirle. E vabbè, da questi spazi poi vengono fuori elenchi di nuovi topic per il nostro podcast, ovviamente. Io di solito scrivo direttamente lì perché poi si sente ti 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 ti. E però, questo per esempio appunto è uno spazio. Sì, è uno spazio, è uno spazio dove le persone si confrontano, dove si incontrano e sono incontri veri, come sono incontri veri quelli delle lezioni per esempio online. Mi è capitato, ho avuto la fortuna di poter fare delle docenze a delle donne che partecipavano a questi corsi finanziati dalla Regione Emilia-Romagna per la digitalizzazione delle donne non si tratta di quelle classi che credo molti di voi abbiano avuto occasione di subire con la gente che spegne le telecamere quindi avete una serie di nove quadratini neri davanti non sapete se c'è qualcuno se sono vivi se sono in bagno e poi dopo uno salta su e ti chiede la cosa che hai appena finito di dire no, classi con persone che hanno partecipato che avevano lo spirito di classe cioè interrompevano, chiacchieravano tra di loro mentre facevamo lezioni dovevi intervenire la cosa bella che cos'è che collegandosi da casa le persone sono in un luogo che per loro è un luogo intimo decidono cosa far vedere o cosa non far vedere quindi se c'è un momento che non vogliono far vedere chiudono la telecamera quindi si sentono più a loro agio io ho conosciuto i gatti ho conosciuto i cani ho conosciuto i figli di tutte ho visto il culo del marito di una di loro che è passato nudo davanti alla telecamera quindi le persone sentendosi più a loro agio danno anche di più quindi si creano dei rapporti ma il rapporto più stretto che ho avuto modo di vivere l'ho vissuto con le lezioni di Monia con le meditazioni online perché lì e qui c'è anche Elena che può testimoniarlo che non sto dicendo cose solo per autopromozione della mia socia ma è veramente successo così un gruppo di donne completamente diverse che venivano da ovunque perché eravamo veramente molto lontane fisicamente ci siamo trovate in un gruppo dove si creava dell'energia e io fino a quel momento ero convinta che questo tipo di energia potesse essere possibile solo in compresenza non è così anche io ero convinta di questo noi siamo qua a testimoniare che non è così che ci sono spazi ce ne sono tanti è possibile quindi per le donne cominciare a parlare a mettersi d'accordo a creare energie a portare avanti idee e fare un sacco di cose belle sì, incontrarsi a prescindere dall'età dalla disposizione nel mondo fisico purtroppo ha un limite che la casa deve essere un posto sicuro e sappiamo che non sempre lo è però quando c'è questa possibilità è una grossa possibilità in più ci sono tanti di questi posti fisici ci sono i forum ci sono i canali telegram quello di amiche tradimento ma ce ne sono anche altri di gruppi così c'è cpb che è un grosso posto in cui si può sperimentare la propria voce anzi vi invitiamo a contattarci magari più me che lei e Elena per sentire cosa potete fare per cpb cpb è sempre in cerca quindi facciamo proprio anche ufficialmente questo appello a tutte le donne che hanno voglia di mettersi in gioco anche in questo senso per appunto per cominciare a partecipare per collaborare per creare quel sapere quel qualcosa quello spazio che nel mondo fisico ancora non ci siamo prese perché possiamo partire da cui pensate anche solo un gruppo su telegramma una sciocchezza io, Monia e Silvia abbiamo il gruppo dove ogni tanto ci salutiamo e ci diciamo due sciocchezze con altre amiche ho il gruppo di Whatsapp dove ci scambiamo solo minchiate si può dire le cartoline quelle con le robe più stupide del mondo e alla fine può servire tutto cioè tutto questo è spazio che poi può essere davvero portato nel mondo reale perché lo scopo è quello il mondo reale che abbiamo detto che non è diverso dal mondo virtuale però lo scopo poi è portare fuori tutto questo che abbiamo messo e creato nei gruppi interni quindi che siano il canale di America Tradimento le voice room che siano canali telegram che siano le meditazioni che siano qualsiasi cosa sperimentare e poi portare fuori facciamo un passo in avanti tutte quante grazie 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 grazie